... dal gruppo Barriere Abbattiati a sentire un po' di tifosi. Bruno, anticipaci in 30 secondi che ti hanno detto e poi li sentiamo. Sì, intanto c'è grande entusiasmo, pensa che mi è stato riferito che le richieste in generale per la trasferta di Trapani dovrebbero aggirarsi intorno alle 5.000, dunque un numero esorbitante, basti pensare che il settore ospiti del Trapani ha circa 500 posti a disposizione. Non ci sono ancora delle decisioni definitive, intanto c'è ovviamente da pensare alla gara di mercoledì in casa al Massimino, c'è tanta fiducia in questo Catania, non solo in Di Piazza che sembra l'uomo in più in questo momento, ma anche in Essarno e in generale in tutta la squadra di Sottil, sentiremo tra l'altro anche il presidente del club. Barriera Battiati, sì, che Tino Cannavò, il quale ci ha ricevuti, sono stati davvero gentili e ci hanno trasmesso la loro simpatia e fiducia. Lo vediamo, lo vediamo al servizio. Sentiamo i tifosi. Cosa si aspetta dal Catania in vista della doppia sfida con il Trapani? Ci aspettiamo innanzitutto che la squadra continui a giocare come sta giocando, quindi con grinda, voglia di lottare e poi ce la possiamo fare, quindi non dobbiamo avere timore. Vincendo qui a Catania perché a questo punto è importante vincere e poi ce la possiamo giocare tranquillamente. Chi può essere il giocatore secondo lei determinante? Si parla tanto in questi giorni di Di Piazza? Di Piazza credo che sia in condizione, ma penso soprattutto al centrocampo, quindi la partita credo che bisogna gestire bene gli uomini che si hanno al centrocampo e poi ripeto il tasso tecnico del Catania è ottimo, quindi se giocano bene con la cognizione che ce la possono fare, noi credo che possiamo andare in finale. Cosa hai provato al gol di Di Piazza? Un'emozione fortissima e mi è sembrato di rivivere il famoso Catana Roma quando finì 1-1 e abbiamo ottenuto la salvezza, quindi è stata un'emozione abbastanza forte. Signora, da quanto tempo segue il Catania? Beh, da tanti anni, decisamente da tanti anni, insieme a mio padre, mi portava da piccola allo stadio e poi il Catania ci appartiene, è nel cuore. A questo punto sperare non costa nulla, anche se abbiamo avuto un'annata poco soddisfacente, diciamo deludente, però l'attaccamento dei tifosi non è mai mancato, noi siamo stati sempre vicini alla squadra in qualsiasi categoria e in qualsiasi circostanza. Adesso medaglia del cammino è stato fatto per i play-off, non ci illudiamo ma speriamo e sappiamo che possiamo fare tanto. Beh, sicuramente il Trapani è un avversario tosto, ma secondo me superando questo scoglio non ci può fermare nessuno. Cioè, vede un Catania comunque più volitivo, è iniziato un nuovo campionato per i rossazzurri, non dobbiamo sottovalutare il Trapani, all'andata abbiamo vinto 3-1 in casa, quindi dobbiamo ovviamente fare più gol e il miglior risultato possibile all'andata per poi giocarci bene e ritorno. Sarà una bella sfida contro una compagine forte, una tifoseria di sempre nostra amica, ma il Catania in questo momento è carico e speriamo di potercela fare. Le sensazioni sono in questo momento positive. Lei è il presidente del club Barriera Battiati, come vi state organizzando in vista della trasferta di Trapani? Noi ci stiamo preparando perché sarà una trasferta che faremo, speriamo l'unico problema è quello che la capienza del settore ospite è piccolo, 480 poste, da Catania minimo minimo ne vorremmo andare a meno un 5.000, io non so come andrà a finire, noi ci stiamo preparando, abbiamo il pulmone pronto, siamo in attesa dei biglietti, vediamo come è combinata la situazione, se ci saranno la destra del tifoso oppure sarà libera. Bello è bello l'entusiasmo, quando c'è entusiasmo a Catania è bello, ce n'è altrettanto anche a Trapani per questa partita, per questo derby così importante per il Trapani che viene da una stagione travagliata che però sul campo non si è sentita, questo è il grande merito di questa squadra, questo è il grande merito del suo allenatore, questo è il grande merito di un ambiente che ha saputo isolare i Granata, portarli al secondo posto, è stata l'unica, Francesco degna avversaria, mi pare di poter dire dello Stabbia durante tutto l'arco della stagione e ci ha rimesso solo per gli scontri diretti. Sì, il Trapani ha disputato un ottimo campionato, sono d'accordo con te nei complimenti a Mister Italiano che ha fatto davvero un grande lavoro, ha degli elementi di grande valore, corapi su tutti, ma anche altri elementi di esperienza. Devo dirti che per quanto poi cambiasse poco o nulla, sinceramente non mi è piaciuta la pantomima di Catanzaro Trapani 6 a 3, perché quella la giudico una pantomima, una squadra come il Trapani non può dal 3 a 1 perdere 6 a 3, però sappiamo che al finale di campionato le motivazioni fanno tanto e quindi è andata in questo modo. Il Trapani è una squadra che, hai detto bene, ha avuto sul piatto d'argento la possibilità di tagliare per prima il traguardo in un momento in cui lo Stabbia aveva delle difficoltà, poi ricordiamo che il Trapani mi pare perse, vado a memoria con la Virtus Francavilla in trasferta, un brutto 4 a 1 che compromise un po' quella rincorsa e quindi si è classificato secondo. Secondo me poco cambia il discorso che è da un mese circa che è fermo, perché comunque è una squadra che si è allenata regolarmente, il Catania peraltro ci insegna, lo scorso anno fece lo stesso percorso entrando da seconda, poi sappiamo come andò dopo aver eliminato la Feralpi Salò, come andò con il Siena, quindi sono tutte, passatemi il termine, chiacchiere da barra, poi in campo si ritrovano in 11 contro 11 o in 16 contro 16 se volete, comprese le eventuali sostituzioni e là chi è veramente più forte che